Stiamo entrando nella seconda tappa del nostro cammino pastorale. Come ben sappiamo la nostra diocesi si è data un tempo ed è questo anno pastorale per riflettere su se stessa, per ridire il noi della chiesa che cammina in Piacenza Bobbio. Questa seconda tappa porta il titolo in cammino verso la corresponsabilità ecclesiale non da soli e parte da un brano della Sacra Scrittura e più precisamente da un brano della lettera di San Paolo agli Effesini in cui San Paolo ci racconta un convincimento di fondo e cioè che è Gesù Cristo stesso ad offrire ad ogni credente una grazia singolare e speciale per l'edificazione della chiesa, della comunità. Questo tipo di atteggiamento è totalmente recepito da Evangelii Gaudium che è l'esortazione apostolica di Papa Francesco che ci sta aiutando a scandire i tempi del nostro lavoro. Il tema quindi di questa seconda tappa è la corresponsabilità, cioè riconoscersi tutti responsabili della vita, del destino e delle dinamiche che abitano all'interno della nostra comunità cristiana, all'interno della parrocchia, all'interno dei nostri gruppi, all'interno dei nostri vicariati ma anche all'interno della diocesi. Nessuno può sentirsi escluso da questo lavoro di diffusa responsabilità, di annuncio del Vangelo e di promozione della vita cristiana in quanto tale. Nessuno oggi può sentirsi un gregario della vita ecclesiale ma tutti nella loro specifica posizione, diremmo nel loro stato, devono sentirsi protagonisti dell'edificazione della chiesa e dell'annuncio del Vangelo. Molto spesso, magari potremmo dire ancora troppe volte, la vita della chiesa è delegata totalmente a quello che è il servizio e la presenza dei sacerdoti. Questo lavoro, in questa seconda tappa, dovrebbe aiutarci a prendere coscienza che la chiesa del futuro deve essere assolutamente la chiesa che ha desiderato il Concilio Vaticano II, cioè una chiesa che vede tutti i componenti del popolo di Dio essere protagonisti nel lavoro di edificazione del tessuto ecclesiale ma anche di annuncio della buona notizia al mondo intero. Come nella prima tappa avremo poi alcuni, e in modo specifico, tre approfondimenti particolari. Il primo approfondimento riguarderà la corresponsabilità dentro la vita quotidiana. Ci chiederemo come declinare il tema dell'essere responsabili con gli altri della vita quotidiana nostra e delle persone che ci stanno accanto. Abbiamo cercato di identificare una parola per rendere più semplice questo lavoro, per renderlo più immediato, corresponsabilità nella vita quotidiana o prendersi cura. È proprio questo l'atteggiamento principale, base del vivere la corresponsabilità, prendersi cura dell'altro, prendersi cura di chi ci è accanto. L'altro filone di ricerca sarà la corresponsabilità declinata nell'educazione. Vivere la corresponsabilità ci richiama a un educarci alla corresponsabilità, a un educarci ad essere comunità, ad essere ciascuno parte attiva. Educarsi nel senso anche di richiamarsi continuamente a questa specifica modalità dell'essere chiesa. Educarsi attraverso quei luoghi che sono reputati al vivere la corresponsabilità. Pensiamo nella parrocchia, al consiglio pastorale parrocchiale, non di meno al consiglio per gli affari economici della parrocchia. Se pensiamo alla diocesi potremmo identificare il luogo della corresponsabilità nel consiglio pastorale diocesano o nel consiglio presbiterale. Tanti luoghi che continuamente ci richiamano e ci educano alla corresponsabilità. In modo poi più specifico entreremo nella terza dimensione di lavoro e di analisi che è la corresponsabilità nelle scelte pastorali, cioè nel dire e nel dare i contorni del volto della Chiesa di Piacenza oggi nelle nostre parrocchie. Cosa vuol dire vivere una corresponsabilità pastorale? Cosa vuol dire non essere più in un atteggiamento di delega verso il proprio parroco, verso gli esperti, i professionisti del lavoro pastorale, ma essere veramente uniti e concordi nel portare avanti il cammino delle nostre comunità. Questa seconda tappa avrà anche una particolare modalità di esecuzione. Innanzitutto da subito già in questa Quaresima e in modo particolare verranno presentati durante la presentazione del cammino di Quaresima sarà disponibile il sussidio che deve raggiungere le nostre comunità proprio già nel tempo della Quaresima e l'invito è quello di far avere il sussidio, di leggere il sussidio insieme, di confrontarsi a partire dalla componente laicale delle nostre comunità. Non possono essere non coinvolti i catechisti, non possono non essere non coinvolti gli educatori, gli operatori della liturgia e della carità, non possono i nostri consigli pastorali non fermarsi a riflettere sul tema della corresponsabilità. Dopo Pasqua gli uffici pastorali, il vicario generale, i direttori degli uffici della curia andranno verso le nostre comunità, andranno nei sette vicariati per incontrare in sede assembleale tutte le componenti dei vicariati dai sacerdoti ai laici impegnati per ritornare il lavoro sulla corresponsabilità. Il sussidio si conclude con una preghiera di Don Primo Mazzolari, questo profeta dello stile, del clima, anche della Chiesa del Concilio e inizia così questa preghiera. Si cerca per la Chiesa un uomo senza paura del domani, senza paura dell'oggi, senza complessi del passato. Certamente il lavoro che ci attende sarà proficuo se riusciremo ad incarnare questo atteggiamento dentro i nostri luoghi di partecipazione. L'invito dunque è che questo lavoro sia come un laboratorio di creatività che porta dentro il desiderio del futuro e il desiderio di poter annunciare anche alle nuove generazioni la bellezza del Vangelo.